Il primo giorno è un giorno dopo Vieni adesso Vieni adesso Vieni adesso Vieni adesso Solti su a destra Com'è la situazione? La situazione è che adesso non dobbiamo andare qua Dobbiamo cercare di attirarli dalle spalle per poter combustolare i loro piani io ho una posizione piuttosto critica perchè si potrebbero vedere buona fortuna che bella situazione e adesso cadono, una maledizione vai non c'è Dove sei stato colpito? Mano, ancora mano e corto. Il nostro elemento mobile è mobile, ma basta un'altra fissa. Cosa succede? Cosa pensate di fare? La squadra vi difesa è una merda per possibili nemici. Rammstein! 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 Mahi tonetti! Scontrafuoco 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 Grazie a tutti L'ho preso Che c***o di m***a Dove sei stato colpito? Di scattico Preso Nick preso Dove sei stato colpito? Mi ha spalla? Vincere l'attacco Vincere l'attacco Sempre io nei video Sempre io Vincere l'attacco Grazie a tutti.